Un luogo dove rimettere al centro i grandi problemi del mondo e dell'uomo. Queste le intenzioni dell'Associazione Culturale Punto d'Incontro, che comincerà le sue attività con un dibattito, l'informazione al tempo della guerra. Il giornalismo oggi tra le insidie delle fake news e il rischio del pensiero unico. In programma sabato alle 10 alla Villa del Parco, con il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio. Abbiamo pensato anche di creare un'associazione che non abbia laccio e laccioli, che non sia ferma sulle tessere o su adempimenti, ma che sia fatta di persone che partecipano. Una serie di persone verranno invitate, è aperta a tutti, è libera, verranno invitate all'iniziativa e da qui lasceranno la sua mail e verranno sempre invitati ai futuri incontri. Il programma per il mese autunnale è quasi pronto. L'idea è sempre quella della condivisione, ma cambia il luogo. Infatti è stato scelto il Teatro Borsi. Abbiamo pensato di portare e porteremo, perché probabilmente ora va visto le date, anche seguendo un po' le agende politiche, sia il ministro della Cultura Franceschini, sia il ministro della Difesa Guerini, nonché la direttrice della RAI Monica Maggioni, Galliani per quanto riguarda lo sport e altri personaggi che riguardano l'economia, perché vorremmo avere un ventaglio di iniziative che non riguardino solo una parte, che non riguarda lo sport e altri personaggi che riguardano l'economia.